luciana campani setti cerchio firenze 77 attraverso roberto setti la fonte preziosa a cura di luciana campani setti campis mi chiedevo perché abbiamo chiamato dimensione intermedia quella dimensione quella condizione di esistenza simbolizzate nel piano acasico nel piano fisico astrale e mentale la realtà che l'individuo osserva appare come condizionata da una oggettività spazio temporale del tutto esteriore per cui l'illusione è duplice all'illusione del tempo e dello spazio si aggiunge l'illusione che fa apparire la realtà come esteriore nel piano acasico non esiste realtà esteriore l'individuo non percepisce la realtà è una realtà perciò non è soggetto all'illusione della percezione badate bene è ancora soggetto all'illusione del divenire perché il sentire soggiace al succedersi ed è ancora soggetto all'illusione della separatività perché ciascun sentire sente di essere una parte oltre la quale sta il resto cioè v'è ancora una specie di tempo e di spazio infatti solo in dio si annulla ogni tempo ed ogni spazio ogni separatività ed ogni sequenza è ancora soggetto all'illusione del tempo e di spazio 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 di spazio